Si terrà il primo luglio alle ore 21 presso il Lido Nettuno in località Laura di Pestum la presentazione della rassegna Maree, una serie di eventi culturali organizzati dall'associazione Amici del Mare che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto sul lungomare di Capaccio Pestum. La rassegna patrocinata dal comune di Capaccio Pestum e da Vicky Poesia, l'enciclopedia poetica più consultata d'Italia ha in programma diverse attività di carattere letterario, teatrale e musicale che saranno svelate nel corso della serata del primo luglio. L'obiettivo che si prefigge la rassegna, sostiene il presidente dell'associazione Maria Teresa Voza, è quello di continuare a offrire a residenti e turisti momenti di incontro e confronto così come è avvenuto nel corso degli anni passati con la festa del mare. Purtroppo la pandemia ci ha fermati l'anno scorso, tuttavia il nostro impegno non è venuto meno, anzi improntare le nostre attività sulla valorizzazione culturale e sociale vuole creare proprio un momento di riflessione sul tempo presente, senza tralasciare quanto fatto finora con impegno, fatica ma soprattutto con grande spirito di condivisione. La serata del primo luglio, oltre a raccontare nel dettaglio le iniziative in programma, sarà caratterizzata anche dalla buona musica, a seguire infatti il giovane e talentuoso cantautore Luciano Tarullo allieterà il pubblico con il suo concerto in acustico.